Oh! Perché questo è successo solo nella vostra mente. Big up! Big up! Guarda, uno, due, tre, quattro assi. Sì. Fiori, cuori, quadri, picche. Prendo in questa maniera così i quattro assi, tolgo il resto del mazzo. In questa maniera lì allineo e ne metto uno di qua, tre di qua, attento. Due e due. Di nuovo quattro, qui così. Due e due. Uno e tre. Prendo adesso un asso. Voilà. Passo la mano. Quattro donne. Bellissimo. Wow, finale spettacolare. No, bello, bello. Ma la notte. Siete pronti? Sì. In tasca ho una predizione. Ok. Ok, non guardatela. Ok. Ok, vi fidate? Mai fidarsi di un bambino. Benissimo. Ok. Ci sto quando vuoi. Sto. Questa? Sì. Sicuro? Sì. Preferisci questa o quella dopo? Quella dopo. Veramente? Sì. Quindi questa? Sì. Vabbè, la guardi e la ricordi. Ok? La fai vedere anche lì? Non farla vedere a me? Anche perché l'ho già vista. Tu, Lorenzo, mi dici stop quando vuoi. Stop. Questa? Sì. La prendi. Ok. La fai vedere anche lì? Perfetto. E le rimettete, mi raccomando, ricordala di faccia, di lato e di dorso, ok? No, sto scherzando. La lascio qui, in mezzo. In questo punto qua. Avete scelto due carte casuali. Guarda, io mescolo. Disperse nel mazzo, giusto? Sì. E disperdiamo anche il mazzo, visto? Perché avevo una predizione, giusto? Se tu ci pensi. Qui c'ho una carta condisegnata esattamente le vostre due carte. La carta era la tua? Ti ricordi? Sì, il Jack di Quadri. Il Jack di Quadri è? Il 9 di fiori. Io ho una carta condisegnata le vostre due carte. Visto? Faccio vedere. Sto scherzando, lo facciamo veramente. Qui dietro c'ho il 9 di fiori. Oh. Oh, tu dici. Voglio fare di più. Guarda il Jack di Quadri. Yes. Ho tolto il Jack di Quadri. Se tu controlli qua. Controlla, controlla che non c'è il magnetico, non c'è niente. Figo. Yes. Figo. E finisci così e gli regali il Jack di Quadri. Ok. Sai che molti medici, no? Sì. Dicono, ti fanno vedere delle immagini per testare la mente, per vedere che cosa ci vedi. Certo. Ok. Io qui c'ho delle carte. Ok. Che, insomma, capisci? Che sono tipo quelle con l'inchiostro, no? Insomma, macchie. Macchie. Se io ti dicessi, se io ti dicessi, qui che cosa ci vedi disegnato? Beh, come prima cosa ho noto un... Un fiore. Un fiore, no? Fiori, sì. Ok. Sopra? Ma potrebbe sembrare una corona. Una corona, no? Sì. Perfetto. Quindi un fiore e una corona. Invece qua ci vedresti altre robe sostanzialmente, no? Sì. Guarda cosa succede. Quindi io potrei rappresentare ciò che tu hai visto nel re di fiori. Sì. Corona fiore. Certo. Re di fiori. Sì. Voglio fare di più. Voglio fare molto di più. Trasformo tutte le carte in re di quadri. In re di quadri. Vigo. Perché questo è successo solo nella vostra mente. Vigo. Vigo. E' fichissimo che quando finisci cagli addosso perché fai così. Questa è un cazzo patrocchante. Basta. Ci sono un po' bocchene. Schizzate.